La convocazione del tavolo di coalizione con tutte le forze dello schieramento era attesa, ma poi in serata c'è stato il dietro front. Le novità che oggi sarebbero emerse dalla riunione del nuovo centrodestra di Alfano, dal punto di vista politico, avrebbero registrato forse nessuna novità. Su un front che vede sempre più prendere corpo una spaccatura tra Forza Italia e gli alleati, nella partita che si giocherà alle regionali in Puglia. Noi stiamo comunque con Francesco Schittulli e stiamo lavorando perché la coalizione vada compatta a questa competizione regionale, che è una competizione importante e più larga è meglio è. Schittulli dopo essere stato bidonato per due volte nel giro di pochi giorni da Berlusconi e dopo essere stato costretto a fare inutilmente anticamera nella speranza di ammorbidire l'ex cavaliere, sembra parecchio seccato sull'andazzo del centrodestra pugliese. L'oncologo ha detto in maniera molto chiara che non ha più voglia di partecipare a incontri improduttivi, nei quali si ribadisce lealtà al candidato, si invoca l'unità del centrodestra, ma non si fa nulla per sanare la frattura tra i ricostruttori di Fitto e il partito del Cavaliere. Al centro c'è il commissario degli azzurri Vitali che intende giocare fino in fondo la sua partita. Vitali ha una missione da compiere ed è quella di far capire a Fitto che il padrone di Forza Italia è sempre Berlusconi. Lo stesso Vitali, a onor del vero, non ha mai negato il sostegno all'oncologo barese, ma non ha neanche accettato imposizione da parte dei fittiani sulle candidature in lista e sulle quote di presenza dei ricostruttori. Qui è il vero nodo da sciogliere, che potrebbe mandare a carte 48 gli accordi con una spaccatura che vedrebbe Forza Italia scendere in campo in perfetta solitudine, con un proprio candidato alla carica di governatore, in aperta competizione con le liste di Fitto che Schitulli pare gradisca maggiormente e di tutti gli altri alleati, tra cui NCD e Fratelli d'Italia. L'ex Cavaliere intanto intende andare avanti per la sua strada e cioè non concedere condizioni a Fitto. Insomma, pare che in questo modo Forza Italia stia pericolosamente giocando alla roulette russa con un risultato, se dovesse correre da sola, che potrebbe segnare per la prima volta il minimo storico.